A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio o peggio all'omicidio, non farlo. Quando sarà veramente il momento e se sei predestinato si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirà in te. Allora, arrivo dritto al punto, ho scritto un libro e che me frega, e lo penserei anch'io, però vi chiedo un pizzico così di curiosità, sigla. Allora, arrivo dritto al punto. Allora, con le pecore nere editorial, così si chiama la mia casa editrice, dopo qualche giorno di parapiglia, perché non erano convinti del titolo che avevo dato al libro, Cartesio ti odio iperbolicamente, avremmo dovuto presentare questo libro in un tour di librerie tra aprile e fine maggio. Ma il lockdown però ha bloccato questo progetto e in realtà ha bloccato un po' tutti noi, anche per cose molto più importanti di queste. Però, visto che ho fatto tombola e una casa editrice ha apprezzato la mia scrittura e per la prima volta i miei quaderni escono fuori dal cassetto, non ci voglio rinunciare. Certo, il progetto non è crollato, è soltanto in stand-by, ma mi sono detto, sei a casa, non c'è un cazzo da fare, cambia prospettiva, promuovilo tu. Self-promotion si chiama, che poi diciamoci la verità, il mondo è cambiato e probabilmente continuerà a cambiare dopo questi mesi di lockdown assolutamente surreali. Quindi che cazzo aspetti? Che poi in effetti sono 20 anni che io lavoro promuovendo brand e prodotti di altri. Lo so fare, lo dimostrano i numeri, gli scatti in carriera, è arrivato il momento di mettermi in gioco per una cosa mia. A meno che ero star fermo non ti porti alla follia, diceva Bukowski. Quindi, senza perdere tempo in puttanate motivazionali, ho deciso di mettere in pratica tutto quello che so sul marketing per la promozione del mio libro. E per farlo metto in pentola tutto quello che ho imparato da centinaia di libri e da 20 anni di strada. Perché quello che nessuno vi ha mai detto è che tutti quanti siete degli ottimi marketing manager, se sapete come farlo. Ok, ok, lo so, ho rubato lo slogan ad Allen Car nel libro È facile smettere di fumare se sai come farlo. L'ho letto, non ho smesso di fumare. Perciò, a meno che io non vi faccia lo stesso effetto della sabbia nel costume, Anche se io preferisco l'immagine della gatta attaccata ai coglioni, ma non so se si può dire. Vi chiedo di seguirmi e così vediamo che cosa succede e se funziona. Prima di tutto però ci tengo a fare una precisazione. Questo non è un corso di marketing, né tantomeno voglio screditare i professionisti di questo settore. Anzi, il consiglio che vi do è quello di affidarvi a chi questo lo fa per mestiere e ha dei risultati assolutamente attendibili. Ma se come me siete dei poveracci o ci avete una passione da coltivare, io un pensierino quasi quasi ce lo farei. Nel mio caso specifico ho finito di scrivere il libro e adesso ce l'ha in mano la casa editrice. Fantastico! Le piacole nelle editorie altre. L'altro mi piace quando nomino la mia casa editrice perché ha l'accento sull'ultima sillaba ed è fighissimo. E poi perché loro non lo sanno, ma tre anni fa una mia canzone è stata nella top ten di una radio a Buenos Aires. E questa me la tengo come sorpresa poi da svelargli al momento opportuno. E poi anche perché come casa editrice sono assolutamente di stampo glocal, cioè pubblicano soltanto autori che hanno sì una spiccata territorialità, ma sono capaci anche di suscitare degli interrogativi su questioni universali. Dove ero rimasto? Allora il mio libro in questo momento ce l'ha in mano la casa editrice, ma se nessuno lo conosce però forse c'è un problema. E non per forza è dovuto al contenuto del libro. E questo è una cosa che può valere tutti quanti i settori e in tutti quanti i campi. Da una canzone se sei un musicista, da un dolce se sei un pasticcere, da un abito se sei un designer o semplicemente un sarto. Quello che abbiamo dimenticato quindi è la promozione. Ma so anche che parlare di promozione certe volte è imbarazzante, quasi ce ne vergogniamo. E questo forse è anche il motivo per cui abbiamo introdotto nella nostra lingua che è la più bella del mondo i termini anglosassoni. Perciò per chi è più amante degli anglicismi diciamo che ci siamo dimenticati il marketing. Ok ok lo so, sei uno scrittore e scrivi, sei un musicista e suoni, sei un pasticcere e fai dolci eccetera. Ma la verità è che quelli che potrebbero essere i tuoi clienti non ti compreranno e non perché non sia bello quello che fai. Perciò se vuoi che i tuoi lettori ti egano, che le donne ti indossino, anche se detta così sembra un po' equivoco. E se i golosi di tutto quanto il mondo assaggino l'ultima varietà del babà che hai fatto, devi sporcarti le mani, c'è poco da fare, devi fare marketing. Da anni gli esperti ci parlano delle 5 P del marketing, anche se poi sono di più perché ognuno preferisce le sue. E sono il prodotto, il prezzo, la pubblicità, il permesso, il packaging, il passaparola e il posizionamento. Ma in realtà in sé il marketing non ha mai dato una garanzia di successo al 100%. Anche se nell'era industriale televisiva il giusto intreccio di tutte queste P portava a un successo molto probabile. In questo momento del post consumismo invece, in cui noi consumatori abbiamo già tutto, queste P non bastano più. E così Seth Godin, lo sviluppatore del permission marketing, cioè quei messaggi pubblicitari che vengono inviati soltanto dopo che il cliente ha consentito a riceverli, ha pensato bene di inventarne una nuova. Eccola qua, la Purple Cow, la mucca viola. E per spiegarcela, lo zio Seth ci racconta di un viaggio in autostrada in Francia, in cui ha passato una ventina di minuti a ammirare centinaia di mucche che pascolavano scansonate nelle campagne. Ma dopo questo tempo però, questo paesaggio fatto soltanto di mucche marroni, era diventato normale, quasi banale. E da lì gli è nata l'idea. Una mucca viola sarebbe servita per ridestare di nuovo interesse, almeno per un po'. Ecco, l'essenza di questa mucca viola di Seth Godin è la sua straordinarietà, è proprio la straordinarietà che c'è nelle cose. E così Seth Godin ci lascia con una domanda, io adoro personalmente i libri che ci interrogano, perché te li porti dietro anche quando hai finito di leggerli. E ci chiede, ma il tuo prodotto è più banale del sale? Ne dubito, è improbabile. Allora, sforzatevi di elencare dieci modi per rendere il vostro prodotto, il mio libro, il dolce e la vostra canzone più attraente per una parte del vostro pubblico. E se non volete credere a me o allo zio Seth, fidatevi almeno di un mostro sacro come Stephen King, che nel suo libro Homewriting dice che non potete soddisfare tutti quanti i lettori, non potete soddisfare nemmeno soltanto alcuni dei vostri lettori, ma dovete sforzarvi a soddisfare alcuni lettori qualche volta. E anche questo è un concetto che può essere applicato in tutti quanti i campi. Quindi, finito di scrivere il libro, ho disegnato l'ultimo capo all'ultima moda, non ti rimangono da fare che tre cose soltanto. Primo, offrire un buon prodotto, un prodotto di qualità. E questo mi sembra pure ovvio, perché se il mio libro facesse cacare, me lo trovo recapitato indietro con una valanga di insulti. E aggiungerei, se sei uno stilista, di evitare il tutto viola. Due, attrarre e non spingere. Perché c'è differenza tra il push marketing, cioè la spinta verso l'acquisto dei nostri prodotti, un po' come fanno i venditori della Folletto, insistendo, anche se pensandoci bene tutti quanti gli spot pubblicitari sono di tipo push, perché non fanno altro che bombardarci con informazioni relative a prodotti che non ci servono, di cui non ne conosciamo nemmeno l'esistenza e di conseguenza non ne abbiamo nemmeno il bisogno. E invece è differente il pull marketing, cioè quel marketing in cui si incuriosisce il cliente e gli si crea quasi un bisogno. Perché ci chiede a lui di vendergli il prodotto. Ed è fantastica, a questo riguardo anche la scena in cui Di Caprio, nel film Il lupo di Wall Street, chiede al suo collaboratore vendimi questa penna. Terzo, mettere al centro del proprio progetto il pubblico. Ora, per quanto riguarda il mio libro, la stesura e la scrittura del libro riguarda solo lo scrittore. La pubblicazione invece è un'operazione che riguarda tecnicamente soltanto il libro. Ma la promozione invece riguarda solo il pubblico, soltanto i lettori. È un vero e proprio cambio di prospettiva. Ora, ma se come immagino, a te pasticcere piace anche mangiare l'ultima versione del babà che ha inventato al gusto di mirtilli. Ci vuole poco a cambiare punto di vista. Che poi è l'unico giusto. Dai, sono arrivato alla fine del video, giuro. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, cliccare e accendere la campanellina, così vi arriverà la notifica del prossimo video e entreremo ancora di più nel vivo di questo progetto. Ma vi lascio con una domanda. Perché no? Non ci sono quasi mai validi motivi che ci impediscano di prendere delle iniziative. La mancanza di intraprendenza è soltanto figlia alla paura e all'inerzia. E ricordatevi che la prudenza è rischiosa. Ciao!